Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse, Dove sei? Rispose, Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, Che hai fatto? Rispose la donna, Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente, Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita, io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno.